Alberto Giuliani, cosa ti soddisfa di più di questo 3-0 finale? Dieci muri, una buona ricezione, l'applicazione sulle posizioni di difesa e finalmente un arbitraggio che ha fischiato qualche doppia. Questo è importante perché quando non parlo degli arbitri significa che non mi sono piaciuti e questi mi sono piaciuti e è giusto parlarne. Atanasievi ci ha chiuso al 42%? Sì, l'abbiamo tenuto bene a muro, i ragazzi hanno studiato e lavorato tanto anche se c'era pochissimo tempo, il lavoro si è visto. e dobbiamo ancora in questo scorcio di settimana che rimane essere concentrati e dedicare quel poco tempo all'alleamento di queste situazioni. Questa è una squadra con una feroce determinazione stasera? Sì, il termometro della determinazione è sicuramente la difesa, credo che la partita sia iniziata con delle difese stratosferiche, che credo che il pubblico abbia apprezzato tantissimo e questa volta fin dall'inizio ci ha spinto e ci ha aiutato a portare a casa questo 3-0 che comunque vale una gara, vale un set per come abbiamo diviso questa serie play-off e questa finale scudetto e per come siamo abituati a pensare, quindi siamo 2-1 e adesso bisognerà andare a Perugia a portare questa pallavolo e a mettere pressione alla squadra di Perugia che è sicuramente all'ultima chance oramai. Grande alternanza anche stasera degli schiacciatori, no? Beh, tre schiacciatori di grossa qualità, Bartos ci dà in attacco tantissimo e a muro altrettanto. Simone è stato un 67% di ricezione positiva, è stato fenomenale in questo fondamentale, appena ha avuto un caio in attacco è salito un covar che sappiamo cosa è capace di fare. Un grande pubblico, un grande incasso, devoluto in beneficenza in un momento così difficile dal punto di vista economico, un grande gesto da parte della società. Sì, questa è una lezione di stile, devo dire così, è stato molto bravo Fabio Giulianelli avere quest'idea che dà un'idea della filosofia di questa azienda, della nostra società. Primo match ball adesso domenica a Perugia. Primo match ball per noi, ultima spiaggia per loro.